pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati quarta domenica del tempo di pasqua la domenica del buon pastore dove la chiesa prega per il dono delle vocazioni quest'anno meditiamo sui versetti 11 18 dello splendido capitolo 10 di giovanni meditiamo il testo soffermandoci su due punti anzitutto contempliamo il buon pastore il suo modo di essere agire nei nostri confronti quindi secondo punto esaminiamoci sul nostro modo di prenderci cura o meno di chi ci è affidato andiamo al testo gesù dice io sono il buon pastore meglio sarebbe tradurre io sono il bel pastore che significa il pastore ideale il pastore per eccellenza colui che realizza in pienezza la sua missione cioè radunare il suo popolo e condurlo alla salvezza sullo sfondo abbiamo quanto profetizzato in ezechiele 34 il signore rimproverò le guide religiose del tempo perché anziché prendersi cura del popolo lo sfruttavano per i propri interessi allora promise che egli stesso avrebbe cercato radunato e condotto ai quieti pascoli le sue pecorelle inoltre avrebbe suscitato un pastore il messia e avrebbe stretto un'alleanza di pace facendo sparire le bestie nocive cioè sconfiggendo il male ecco in gesù si compie tutto ciò egli vero uomo e vero dio discendente di davide e figlio dell'altissimo che vince il male stipula la nuova ed eterna alleanza oltre a questi dati un po più tecnici diciamo cogliamo una splendida sfumatura esistenziale cioè gesù è il pastore bello c'è in lui una bellezza una perfezione che ci attrae in cosa consiste lo leggiamo subito dopo il buon pastore dà la propria vita per le pecore non pensa a salvare sé ma a salvare le pecorelle e la croce è il culmine l'emblema potremmo dire che quasi sproporzionato pensate un pastore che per salvare e difendere il gregge di pecore si consegna alla morte in effetti l'amore di dio è sproporzionato e smisurato dio l'onnipotente l'altissimo per amor nostro si fa uomo e si consegna fino alla morte e alla morte di croce ecco chi siamo noi per lui figli amati per i quali vale la pena dare tutto se stesso dunque questo pastore ci attira ci attrae perché ci ama così in maniera gratuita e smisurata quanta distanza da certi modi di intendere dio e vivere la fede anzi non vivere la fede come se ci trovassimo davanti a un esattore delle tasse che sta lì a chiedere compensi per le sue grazie o a un divin assicuratore a cui sfornare prestazioni in cambio di benedizioni ma quanta lontananza anche da certi sistemi filosofici o religiosi dove devi conquistare tutto a suon di sforzi conoscenze purificazioni tutto va meritato tutto va elemosinato compresi affetto e considerazione vivendo in modo asfissiante anche la spiritualità che invece dovrebbe essere liberante e perché il pastore ci ama così tre punti anzitutto perché le pecore gli appartengono noi siamo cosa sua e nessuno può strapparci dalla sua mano la mia vita la tua vita non è terra di nessuno ma apparteniamo al signore che per noi tutto dona e tutto si dona secondo punto perché il pastore conosce le sue pecore io conosco le mie pecore le mie pecore conoscono me dice gesù terzo punto gesù dice conosco le mie pecore come il padre conosce me io conosco il padre c'è una intimità profonda che gesù vive a monte con il padre del quale accoglie l'amore riversandolo su di noi l'amore che ha per noi e l'amore che il padre ha per lui mette a nostra disposizione quell'amore che per primo vive viene a portarci ciò che lui per primo sperimenta mette a nostra disposizione il suo ambiente vitale che è l'amore di dio lo spirito di dio e dice ancora io depongo la mia vita per poi riprenderla per questo il padre mi ama e questo mi ha raccomandato potremmo dire in modo semplice ecco dove il signore attinge la forza e la capacità di donarsi fino alla fine dall'avere un cuore sempre connesso al padre che in ogni istante vive unito al padre facendo la sua volontà che è il nostro bene e questo pastore ci conduce all'unione con dio e all'unità tra noi insegnandoci l'arte di amare dice infatti ci sono anche altre pecore che non sono di questo vile anche loro devo guidare ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge un solo pastore ecco gesù che vuol arrivare a tutti entrare in intimità con tutti vuol condurci tutti guidandoci attraverso la sua parola e renderci un solo gregge con un solo pastore ci conduce cioè all'unione con dio e all'unità tra di noi questo è il nostro pastore lasciando che lui si prenda cura di noi lasciandoci condurre dalla sua parola diventiamo capaci di fare altrettanto di amare così tanto ora ci chiediamo e noi nei confronti degli altri cosa siamo pastori o mercenari vediamo un po al mercenario a differenza del buon pastore le pecore non appartengono cioè non le ha veramente a cuore non sente il loro bene come suo proprio e dunque cosa fa quando vede arrivare il lupo fugge per mettersi in salvo pensa a salvare sé a discapito di chi gli è affidato a differenza del buon pastore che non pensa a salvare sé ma chi gli è affidato chi è dunque il mercenario in fondo è chi vive per sé incastrato nella ricerca egoistica del proprio piacere e del proprio tornaconto non è entrato nella dimensione adulta della vita propria di chi ama di chi si sacrifica per dare vita e custodire la vita di chi ha accanto potremmo dire che agiamo con spirito mercenario quando ci disinteressiamo degli altri quando ciò comporta sacrificio e fatica lo spirito mercenario può alleggiare in tutti e tutti dobbiamo combatterci il danno del vivere da mercenario è duplice si vive per sé dunque una vita banale e si espongono gli altri al pericolo infatti se il greggio è incustodito arriva il lupo e il lupo che fa rapisce e disperde rapisce ovvero toglie libertà rende schiavi lega nella dinamica del male del peccato in ogni sua forma e inoltre disperde disgrega cioè crea divisione ecco l'opera del male ti imprigiona e ti isola a differenza di dio che ti libera e ti mette in relazione con gli altri se un sacerdote ad esempio vive con spirito mercenario e quindi pensa al suo interesse al suo tornaconto alla sua carriera e riduce la sua missione a ufficio a lavoro che ne sarà della sua comunità se non investe nella formazione dei laici nel costruire comunità se non dedica tempo per ascoltare incontrare accompagnare le persone che dio gli affida cosa regnerà nelle comunità cristiane nelle parrocchie disgregazione dispersione mondanità e tanti si smarriranno se in una coppia ognuno resta incastrato nella ricerca egoistica di sé nelle aspettative che ha sull'altro e pensa ai suoi interessi e non coltiva la relazione comunicando amore dedicando attenzioni andando incontro per soddisfare i bisogni dell'altro che ne sarà di quella coppia si ridurranno sieno a due ghiaccioli che coabitano nello stesso congelatore esponendo anche l'altro a serie tentazioni che potranno arrivare in mille modi se un genitore vive con spirito mercenario cioè nonostante i figli continua a pensare a sé e non si lascia scomodare dai figli non dedica tempo per stare con loro per ascoltarli istruirli faticando santamente per educarli che ne sarà del figlio che ne sarà di un figlio che non ha regole che è parcheggiato dalla mattina alla sera davanti al computer al telefonino senza che nessuno gli abbia insegnato l'utilizzarlo che ne è delle persone che abbiamo accanto se ci lasciamo prendere dallo spirito mercenario in conclusione è bene chiederci ma perché spesso siamo mercenari perché spesso le nostre relazioni sono segnate dalla paura e ci avviciniamo agli altri per interesse o per tornaconto il motivo è perché in fondo ci portiamo dentro un vuoto ci sentiamo e viviamo da orfani non da figli come se alle spalle non avessimo nessuno così partiamo dalle nostre deboli forze segnati da ferite ingabbiati nelle dinamiche di doubtless dare per ricevere o di dare se ricevo e appena questo non accade abbandoniamo peggio ancora perché a volte viviamo da lupi perché a volte anziché amare e cercare il vero bene dell'altro in prigiono l'altro perché a volte anziché vivere amicizie sane vivo relazioni tossiche legando a me le persone manipolandole seminando discordia e zizzania senza entrare nel campo delle problematiche psicologiche perché vivo come se fossi l'ombelico del mondo alla disperata ricerca di qualcuno che colmi i miei vuoti senza riuscirci mai da cosa parte invece una vita nuova relazioni nuove segnate dall'amore vero da lasciare che cristo si prenda cura di noi dallo stare con lui dal nutrirci di lui dall'interiorizzare la sua parola per conformarci a lui riscoprirci figli amati sempre di nuovo oggetti di tanta tenerezza di tanta cura di tanta premura questa domenica riscopriamo chi siamo per il signore e lasciamo che la sua tenerezza invada i nostri cuori senza timore di chiederci che relazioni vivo con gli altri pastore o mercenario o peggio ancora lupo interesse vuol dire essere dentro cosa ho dentro il cuore cosa ho davvero a cuore il mio tornaconto personale oppure nel cuore l'intuizione della tenerezza di dio e dunque ho a cuore il vero bene dell'altro che il buon dio vi benedica tutti pace e bene 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 benedica tutti pace e bene